Siamo con Gennaro Marrone per raccontare ai telespettatori di Cilento Channel di una bellissima iniziativa che è stata accolta da una cittadina di Agropoli che è Paola Tozzi e credo che in tanti la conosceranno sempre attiva per il sociale e per la comunità. Allora Gennaro spieghiamo ai telespettatori di Cilento Channel a chi guarderà questo servizio perché oggi sei ad Agropoli e perché alle tue spalle ci sono tutti questi disegni molto belli tra l'altro. Allora io sto qua a presentare mio figlio che è morto con una malattia rarissima nel 2017, quattro anni fa e ha lasciato una storia scritta, documenti scritti sotto forma di questo libro, di poesie, di disegni e ha raccontato la sua vita di sofferenza in un certo senso, una vita difficile però vissuta in resilienza, con dignità, con rispetto e ha lasciato scritto nel suo libro che io dovevo portare in giro, il suo desiderio di portare in giro le sue opere e far conoscere agli altri come si vive su una carrozzina, le difficoltà che ci sono per vivere tutti i giorni, le difficoltà e via dicendo. Il tuo figlio aveva 18 anni quando purtroppo vi ha lasciati, però ha lasciato una eredità importante che è quella della sua memoria che vive ogni volta che tu lo rappresenti, rappresenti quello che ha fatto nella sua vita e hai forza il coraggio che ha voluto racchiudere anche in questo libro, nei suoi disegni. Sì, io mi sono impegnato, ho fondato un'associazione per scopi di beneficenza, con il ricavato delle vendite dei libri cerchiamo di fare qualche buona azione. Il mio compito, la mia utopia è quella di far capire agli altri ragazzi, perché lui al di là della sofferenza per la malattia ha sofferto molto l'emarginazione e se guardate questo disegno, questo è stato geniale nella sua esternazione dell'emarginazione. Si vede questo bambino afflitto a terra, con gli occhi degli altri che lo guardano per la sua bizzarra forma fisica e diciamo che questa è la sua espressione di un ragazzo disperato per la sua emarginazione, perché fino a 10, 11, 12 anni il ragazzo era coinvolto socialmente dagli amici alla scuola elementare, poi nel momento in cui scatta l'adolescenza, scatta l'adolescenza, si cercano i fidanzati, le fidanzatine e quindi praticamente è stato lasciato a casa, non ha potuto vivere la sua adolescenza insieme agli altri e questo che l'ha fatto soffrire molto di più. Allora il mio impegno è andare per i licei, come già sono andato nel pre-covid, per sensibilizzare un po' i ragazzi, perché vero male in ogni istituto ci sono ragazzi con difficoltà motorie, difficoltà di vivere e quindi coinvolgerli in questo progetto e ad aiutare, perché basta poco veramente, basta un sabato, una domenica, invitarli in giro, invitarli a mangiare una pizza e sono molto più felici. Io racconto le sensazioni di mio figlio, quindi sono una testimonianza viva, una testimonianza attiva e questo soprattutto è l'impegno per andare per le scuole, far capire come è difficile vivere e quindi rispettare questi ragazzi che non sono disabili, lui non ha mai ammesso, non ha mai accettato questo termine, anzi lo odiava, spesso e volentieri quando veniva appellato dai dottori, c'è un bambino disabile, lui si alterava e si arrabbiava e a questo punto ha coniato un termine che penso sia molto chirurgico, è stato geniale secondo me, ha semplicemente un concetto da una matrice molto semplice, dice ma io ho una disparità fisica e pertanto sono un disparo, punto. Non c'è bisogno che mi ghettizzi con un nome che non dice che io sono, anzi non sono disabile, io sono superabile, sono un supereroe perché vivo e combatto tutti i giorni più degli altri con le mille difficoltà, quindi non sono un disabile, sono un superabile, però non stiamo a fare, diciamo, su questo tema ma disparo, credo che sia anche perché i parolieri statali, coloro i quali inventano le parole per queste persone, stanno già elaborando, stanno lavorando questa parola, diciamo da tempo, da anni fa, abbiamo ascoltato un paralitico, anticappato, diversamente abile, disabile, proprio la stanno cercando, è una parola che non ghettizza e io credo che proprio questa parola sia molto lineare, poco ghettizzante e stiamo facendo anche con l'istituto d'arte, l'istituto artistico dove lui ha frequentato, insieme agli insegnanti vogliamo scrivere all'Accademia della Crusca per vedere se riescono ad assorbire questa parola nel vocabolario, a magari farci un pensierino, come è stato fatto anni fa per la parola petaloso che un ragazzino, diciamo, ha pensato ed è stato ammesso al vocabolario, tradizionario italiano. Parliamo un po' di Disparo, Disparo nasce con una malattia genetica molto rara, due casi in Italia, muoiono tutti piccolini appena nati, però lui non lo so perché riesce ad andare avanti fino a una certa età, a questa età dove ha lasciato tanti di questi documenti scritti dove veramente ha dato in meglio di sé, soprattutto su certi passaggi. Prendiamo il caso di Gesù, molte volte raffigurato, ok? Si parte da una parte più giovane, è stato tutti autobiografici, diciamo la croce è il simbolo della sofferenza universale, però la colora, perché la sua autobiografia è sofferenza, è gioia che vivono insieme come lui l'ha scritto anche nel suo libro, che dopo andremo a leggere qualche piccolo passaggio. Poi man mano che cresce, man mano che cresce, arriva a un punto quando incomincia a sentire la sua fine, perché lui lo sente, la sente questa cosa, incomincia a disegnare il Cristo amputato, come vedete, ecco. E questo qua è un messaggio molto forte, quasi blasfemo, un calcio sotto al tavolo, sotto al banco, per dire sì, la sofferenza di Gesù, per l'amore di Dio, non si tocca, però ha sofferto da grande, poi magari da bambino ha giocato, non ha dovuto curarsi da appena nato e lottare per la vita. Allora, diciamo, lui ha preso questa icona, questo simbolo della sofferenza e l'ha apostrofato ancora di più per far capire, questo è il simbolo di chi soffre da bambino, è il Cristo disparo, lui così lo chiamava, il Cristo disparo. E anche questo qua è molto autobiografico, ecco, la sua maschera di gioia, tutta colore, sotto forma di colore, però dentro, la profondità, c'è sempre il volto di Cristo sofferente. E questo qua è l'emblema, se è il caso di farlo vedere, qua siamo negli ultimi giorni, intubato, siamo a Monaldi di Napoli, intubato, nel naso, nella bocca, e riesce a sorridere ancora, nonostante sapesse che erano gli ultimi giorni, ma era felice di non soffrire più, era felice. E allora questo qua, vede, la maschera di felicità, i colori, che poi li troviamo in questo suo disegno visionario. La manina piccolina, con la sua tavola cromatica di colori, dice questa è la mia manina, è la mano oscura di una malattia, che lo infilza, dice non potrei più disegnare. Oppure come questo qua, sempre molto forte, la morte mi ha preso, ecco, con la capezza e con i capelli, dice non puoi più scappare, ti ho beccato. E questi sono tutti gli ultimi disegni che ha fatto, dove ha cancellato tutti i colori e ha messo solo il nero. Questa è la paura di un bambino. Questo è pure lo stesso tema che viene preso e sgozzato, che io pensavo fosse il disegno che era frutto dei talebani, che vedevamo in tv, quel bombardamento mediatico. E lui mi diceva, papà io questo vedo. E disegnava ciò che vedeva. Anche questo, questo piccolo schizzo è geniale, perché ecco il suo corpo malaticcio, che vorrebbe stare bene, esce dalle spalle questo corpo sano, integro. Cioè è il desiderio di chiunque che sta male, che vorrebbe stare bene, avere un fisico normale come tutti gli altri ragazzi. Era molto cosciente dell'attualità. Noi non abbiamo mai giocato a PlayStation. Parlavamo del... quando lo curavamo al Gaslini di Genova. E quando a Gaslini di Genova, già 3-4 anni, mi fece una domanda difficile. Dice papà, com'è che siamo tutti del sud qua? Allora per fargli capire bene la situazione, dovetti spiegargli il regno delle due Sicilie, che cosa eravamo come sud e come mai ci trovavamo a curarci verso il nord. Quindi era molto presente sull'attuale. Infatti c'è questo qua che rappresenta il disegno della massoneria sull'Europa, imbrigliata da una rete. Ecco, vedi, in questi disegni astratti, che sono sempre autobiografici, la sua vita contorta però a colore, e poi dei segni simboli universali mondiali, come questi segni massonici che comandano il mondo, Gesù sul demonio, piccoli segni però molto significativi. Anche questo qua. Questo qua rappresenta la sua categoria, lui stesso magari. Questa è la piattaforma della sua vita appesa a un filo. Lui ha amputato, cioè per distinguere la categoria dei disparo, butta la stampella a terra e va incontro a braccia aperta alla vita. Questo è l'occhio di Dio, non è il sole. Va incontro a questa vita che nonostante tutto ama. Anche questo qua, che sembra un disegno di un bambino elementare, lo faceva contemporaneamente a quando faceva questi disegni da cinquantenne. Veramente è stato molto misterioso questi grandi misteri. E questo non è un sole, questo è uno squarcio nel cielo. C'è questa patina gialla che scende, l'ascensione, la barchetta di un viaggio di sofferenza, gli abiti seduti sulla sedia ed è salito al cielo. Ha fatto tutta una serie di sogni molto molto particolari. Questo qua è il pianeta Terra che ci guarda impaurito per il pasticcio del petrolio. Questo qua, questa è una linea che chiamava sfogart, terra di fuochi, la spazzatura sotto ai terreni. E poi il magnetismo di Rasputin, la malinconia di Totò. Incredibile come riuscissi a mettere, a trasportare proprio l'anima di questi personaggi nel... questo è lui con un suo murales che gli ha dedicato Antonio Lanna, che sta all'Istituto d'Arte di San Leucio. Questo è il Vesuvio, sembra autobiografico, il Vesuvio che erutta colori, quindi sembra questa tragedia e gioia contemporanea. Lui amava molto la sua napoletanità, essendo di origine, diciamo noi siamo di origine napoletana come famiglia, viviamo in provincia di Caserta, ma poi aveva gran paura, una grande paura della tracheotomia, infatti qua lo rappresenta, e lui ha barattato anni della sua vita che non la voleva la tracheotomia, non l'ha voluta, non ha voluto neanche firmare, quando aveva 18 anni all'ospedale, dice no non voglio vivere con il tubo, preferisco morire, perché aveva visto tanti ragazzi all'ospedale tracheotomizzati e quindi sapeva che per lui sarebbe finita dentro casa, non poteva più uscire e quindi ha preferito vivere qualche anno in meno, ma dignitosamente, anziché vivere attaccata a una macchina 24 ore su 24. Ha scritto poesie, ne leggo una, qua rappresenta proprio chi è emarginato in un certo senso, e fa così. Questa poesia l'ho scritta a modo mio e se ha già raggiunto questo punto, ha già ringraziato soltanto a Dio. Io ho già avuto un'infanzia bruciata e a 14 anni la vita vera è iniziata. Per te queste parole potrebbero non avere senso, ma io scrivo tutto quello che penso. La piccirilla per l'emarginazione piangevo e sempre a casa senza amici rimanevo, sperando che a New York mi rifacevo. Tu che non mi conosci e guardi solo il mio male, ma se ti impegni a conoscermi meglio, vedrai che è tutto normale. Sempre a me chiedere perché sono curto, mi dice la gente, ma ho già capito che parola loro se porto via o vien. Degli guardi della gente mi preoccupavo, allora andavo a casa, chianien e con l'arte mi sfogavo. Questa è la poesia di Disparo. Questa è la prima pagina del libro, del suo diario che ha scritto. Ci tengo a leggere per far capire un po' la sintesi di che persona e come è obiettivo con se stesso Antonio. Questa è la prima volta che scrivo qualcosa di mio e non pensavo di farlo su qualcosa che serve per disegnare. Qui ci scriverò tutto quello che sento, che penso, che provo, sarà il mio libro di sfogo. Ci scriverò anche le rime, sì proprio tutto, tutto ciò che voglio e nessuno dovrà leggerlo perché è privato, un po' come il diario segreto. Ma non la prendo come un diario, la prendo più come un libro di sfogo come ho detto prima. È sera e sto vedendo paperissima sprint, giusto per fare qualcosa. Quello che sento ora è rabbia, ma anche felicità. Strano. Strano perché come possono due sentimenti così opposti a essere presente in una persona? Questo è uno dei tanti misteri della vita. Quello che stasera penso è che devo fare qualcosa della mia vita. Basta perdere tempo. Magari iniziando a scrivere potrei lasciare un documento importante quando non ci sarò. Un documento di una persona con problemi motori, ma che riesce a fare tutto. Sì, perché io voglio fare qualcosa di importante, oltre ad essere riconosciuto come un grande artista. Qualcosa che magari aiuta le persone in difficoltà come me. Prima ho scritto che sento rabbia. Sento rabbia perché non esco più con i miei amici, ma non perché non vogliono farmi uscire con loro, ma perché si sono fidanzati. E ovviamente vogliono uscire a coppia. Io lo capisco perfettamente. Perché comunque sono giovani e devono fare esperienze. Posso mai imporre che non devono uscire a coppia per me? No. Sarebbe una cosa spreggevole. Poi ho scritto che sento anche felicità. Perché forse c'è una possibilità che io cresca più velocemente, grazie a dei medicinali. Ma tutto è da vedere, ovviamente. Non si sa mai. Può darsi pure che è tardi perché ho 16 anni e sarebbe tardino. Ma la speranza è accesa ed è sempre l'ultimo a morire. Questo è tutto ciò che sento e che penso oggi. Spero che domani mi capiti qualcosa di bello, di inaspettato. Beh, sono le 21.18 e non mi va più di scrivere. Anche perché ormai ho scritto tutto ciò che sento e che penso. Buonanotte. Poi Disparo è andato più volte in rianimazione. Ogni volta ha visto morire un ragazzo. Quindi è segnato sul libro, parla proprio di questo, anche di questo passaggio. E quindi vedere un bambino che dai 10 anni fino ai 18 anni va più volte in rianimazione, puntualmente diciamo che matura, matura molto. Tanto è vero che dopo scrive anche una poesia sui bambini dell'ospedale. Che dopo magari, dopo magari leggeremo. Ecco, questo è il testamento che mi ha lasciato mio figlio. Questo libro dovrà essere pubblicato per ragazzi. E quindi l'abbiamo accontentato pubblicandolo. Con il ricavato di questo libro cercheremo di aiutare qualche persona che ha bisogno. e soprattutto cercare di... la difficoltà di un bambino, di una famiglia. La malattia è rarissima. Io pensavo che fosse un po' messi sotto i riflettori. Ma invece ho capito che poi era abbandono totale. Noi siamo stati abbandonati. È stato grazie alle intuizioni, alla professionalità della dottoressa Maia Di Rocco, che non smetterò mai di ringraziare, che era una genetista dell'ospedale Gaslini. E grazie alle sue intuizioni siamo riusciti a portarlo avanti fino a 18 anni. Ma senza medicina, solo con cure, con semplici cure in un certo senso. E poi man mano che la malattia fa incurvare le ossa. E man mano che si incurvavano le osse delle gambe, quelle là più evidenti, facevamo delle operazioni per raddrizzarle, almeno per dargli autonomia. Perché lui amava la sua autonomia, la sua libertà. E ogni qualvolta che si conquistava un pezzo di autonomia si festeggiava. Ma sto parlando, per esempio, di aprire la porta, di riuscire ad andare anche in bagno e fare lo discarico. C'erano le cose semplicissime che sono semplici e normali per tutti. Per lui era una grande conquista. Ci tengo a farvi sentire questa poesia che ha scritto dopo un'ennesima epigrisi che è stata in rianimazione. Si chiama Il creatore dell'ospedale. Il creatore dell'ospedale vedono solo sofferenze. Non vedono una gioia, mancano da un momento. Si cosa l'ha già vista e l'ha già vissuto, mettendo in mente, pure se la casa è venuta. Ti assicuro che un creatore che vuole le lacrime di sangue ogni minuto. Un creatore che le lacrime di sangue si bagna a chiangere. E una domanda mi la pongo. La modemma che la moda è spongo. Com'è che nessuno va a guardare? Com'è che nessuno si va a affacciare? Fra, io non capisco ancora perché questa sofferenza sta per loro. Io non capisco ancora perché questi creatori non sono felici ma anche per loro. Ogni creatore durante la notte fa lotto contro il morto. In l'ospedale non esiste felicità. Esiste soltanto crudeltà. Per farvi capire, questa è la scritta che aveva 15 anni. Diciamo, sono parole scritte da una sofferenza profonda, vera, autentica. E spesso e volentieri si è trovato intubato e sveglio. Quindi una cosa molto, molto cruda. Cruda veramente per un ragazzo, per un giovane. E lui comunque è andato avanti. E alla fine, alla fine ha scritto, io sono un poeta tra i disgrazzi e ringrazio. Si dice grazie perché grazie a loro sono maturato. Perché grazie a loro questo sono diventato. La natura mi ha maturato. Sono cresciuto grazie a forza mia, non grazie a forze l'ata. Rappicciarie sempre criticate. Rappicciarie sempre a rete parlate. Rappicciarie sempre guardate. Rappicciarie sempre a morte rischiate. Tante volte in rianimazione sono andate. E ti assicuro, bella sensazione, non ho provato. Io ringrazio, si dice grazie perché grazie a loro sono maturato. E perché grazie a loro questo sono diventato. Qualora ci fosse un preside, un insegnante che vuole portare nella scuola la mostra, non ci sono problemi. Mi può contattare sempre su Fondazione Disparo. E' un batter d'occhio. Diciamo che è il mio obiettivo della vita. Far vivere ancora, esaudirlo con i suoi desideri che voleva andare in giro a far conoscere la sua arte, i suoi lavori e anche la sua vita che è stata molto avventurosa. Noi abbiamo una pagina Fondazione Disparo. E sulla Fondazione c'è il numero di telefono e ci saranno tutte le... Si possono mettere in contatto e poi vediamo attraverso il numero di telefono come fare per... in che modo puoi consegnare il libro. Qualche genitore mi può capire. Antonio è stata la cosa più bella che ha avuto dalla vita. Nonostante le difficoltà. Paola, presso il tuo spazio qui nella città di Agropoli ospiti una persona, Gennaro Marrone, che racconta la storia di suo figlio, di Antonio Disparo, per far arrivare un messaggio importante, soprattutto ai ragazzi. Come mai questa decisione di far esporre questi disegni che sono davvero toccanti poi ascoltando la storia? Io ho avuto il piacere di conoscere Gennaro qualche anno fa nell'ambito di un contesto culturale in cui ho partecipato con una piccola esibizione canora. e sono rimasta subito al momento affascinata da queste immagini e soprattutto incuriosita perché sentivo che c'era qualcosa di molto profondo. Quindi ho voluto approfondire questo argomento con Gennaro e così l'ho conosciuto e insomma mi ha indicato un pochino quella che era la strada per poter promuovere questo messaggio che suo figlio Tony voleva insomma diffondere. Ed è un argomento molto particolare, quello della discriminazione, molto attuale tra l'altro e che io sento in particolar modo, non so perché, ma sono molto sensibile a questa tipologia di problematiche. E niente, è venuto un po' naturale e spontaneo di offrire questo spazio questo spazio che è nato da qualche anno in seguito alla costituzione di un'associazione che ho voluto creare, alla quale ho dato il nome di Solidarte appunto perché il mio scopo era quello di mettere un po' l'arte a disposizione della solidarietà, del sociale. E quindi niente, io rinnovo l'invito un po' a tutte le persone che conosco, a tutta la comunità a visitare questa mostra, questa bellissima esposizione. Noi ci eravamo proposti di restare altri due giorni, 7-8 ottobre, però a questo punto io penso che si protrarrà ancora, almeno per un'altra settimana. Poi ci aggiorneremo insomma sui social e niente, vedremo di prolungare un po' il tempo e lo spazio messo a disposizione per Gennaro e soprattutto per la memoria di suo figlio Tony. Grazie. Grazie. Grazie.